Guido Contini Gli ultimi due film sono stati... Dei fiaschi? Hai esaurito le cose da dire? Non riesco a ricordare come si fa. Dirigere un film è un mestiere sopravvalutato, lo sappiamo. Devi solo dire sì o no, che altro devi fare? Maestro, questo lo vuole rosso sì, verde no. Sì, no, sì, no. Questo è dirigere. L'unico film che potrei fare ora... sarebbe su un uomo che tenta di riconquistare sua moglie. Perché deve essere tutto così serio? Non c'è niente di male a far ridere un po' la gente.